Era l'ultimo interno Partita questa prima finale della Gallucca di questi campionati regionali di pista a Bellusco Sali! Gnocco, sali, bravo! E' il tetto di Laica 60 per chi veniva in questo momento E' il tetto di Laica E' il tetto di Laica Sì, è un tetto di Laica Molto compatto Molto compatto Viene a Mento 340 E sarà campato I minamenti per il passaggio E' ancora arrivare 904 di tempo E' un fitto lungo E' un tetto di Laica E' un tetto di Laica E' un tetto di Laica Andi e lo sopravanza, siamo ai punti del numero di due, cinquanta, cinquanta, quattro. Andi e il Carbano, quindi i punti sono andati sulla punti del numero di due, siamo già a Carbano, il numero di due. Andi e lo sopravanza, siamo ai punti del numero di due, cinquanta, 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 cinquanta. Andi e il numero di due, ampi, scritti di microfono, un parma di meno diciannotte, sarà al punti del diciotto sul prossimo passaggio. suona la campanella 17 la campanella 17 punti di meno 16, 63, 50 e sono i due atleti che ormai stanno girando in solitaria a gruppo a mezzo giro di distanza la campanella 17 nona seconda amolizione per la gruppo a mezzo 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 suona la campanella 17 e siamo in gruppo di meno 16 50, 63 la campanella 17 è una gara 2 il resto del gruppo evidentemente non ha sempre intenzionato a dare il fondo della propria energia viene squalificato l'atleta numero 30 l'atleta numero 30 squalificato si deve fermare l'atleta numero 30 deve fermarsi l'atleta numero 18 viene amolito l'atleta numero 86 amolito l'atleta numero 86 punti 50, 63 amolito l'atleta numero 87 quando siamo alla campana di meno 9 in reclamine è sempre la tetra numero 50 l'atleta numero 15 una buon'urre con me in solitaria all'estitale del gruppo viene amolito la tetra numero 45 amolito la tetra numero 45 amolito la tetra numero 45 e sto sempre con il matatore 50, 63 punti sul passaggio per la concluso il resto del gruppo lontanissimo della posizione di presa suona la campana di meno 7 e siamo ai punti numero 6 è la punta 50 in questo momento il punto di gestione di aria passerà su 34 seguita dalla 63 suona la campana di meno 5 in termine sarà un punto di una quadra saggio il tutto la corrente benvene numero 40 in termine la retina temanissimo la seconda posizione ma è ancora 63 sui costi al giuramento la porta della massa e il punto Siamo arrivati a tutti i giorni, 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 siamo arrivati a tutti i giorni. Grazie.